Ma no, davvero? Sì, me l'ha detto lei. Allora è così. Caffè? Sì, caffè. Abbiamo una minestra sul menù del giorno. No, va bene così, grazie. È al pomodoro, l'ho fatta io con le mie mani. Ah, ok. Bene. Mi scusi, mi serve. Mi serve un cucchiù. Non fa niente, l'ho trovato. Ecco la sua minestra. Ah, la minestra giusta. Ah, sì, certo. Ah, sì. Ah, sì. Grazie a tutti. Ti diverti. Tu, voi, egli... Vieni.